Musica 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 After midnight, we're gonna let it all hang down After midnight, we're gonna chuckle up and shout We're gonna stimulate some action We're gonna get some satisfaction We're gonna find out what it is all about What it is all about What it is all about After midnight, we're gonna let it all hang down After midnight, after midnight After midnight, we're gonna shake your tambourine After midnight, after midnight After midnight, we're gonna let it all hang out I believe that Novara is a great thing You got to count up until three And they're doing all your desires They must continue so They must play They must play They can only play 13 anni dopo aver abbandonato la B, oggi Novara potrebbe trovarsi al primo posto e si trova, si trova il Novara al primo posto in classifica. 180 secondi, recupera la palla Gonzales, va via, Gonzales poi si è lungo alla sfera, potrebbe andare via, ci va, difende la palla in maniera incredibile, Pablo, GOOOOOOOL! Non so più che aggettivi usare, hanno fatto un'azione impressionante, un'apprendezza, veramente incredibile, faccio i complimenti. E pareggia, uno a uno. Non so più che aggettivi usare, 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 non so più che aggettivi usare. Grazie. Grazie.